Tutti i rifiuti. Questi due parchi adesso stanno bene? Allora, proviamo a fare come prima. Proviamo... Vieni un passo indietro, non so chi può andare verso il culo. Anche tu vieni qua, fratelli. Proviamo a toccarci... Proviamo, facciamo le proche. La punta dei piedi, via. Tarrate su, ok. Sì, stai anche sudando sangue, no? Allora, adesso proviamo a toccare il ginocchio col gombo. Non è lì il ginocchio. Sembra una tartaruga ninja, ragazzi. Proviamo... Non vi faccio saltare perché ho paura. Proviamo... Allora, aspetta, aspetta. Gambe aperte. Allora, proviamo a prendere le braccia. E a toccare la punta dei piedi. Ok, è pericolosissimo. Ma che ti cade la spazzatura? Va bene, ragazzi. Secondo voi... Sì, hai piegato anche tutto il mondo per arrivarci. Allora, ascoltatemi un attimo. Secondo voi questi due parchi, ben detto, stanno bene o no? Dove sarebbe meglio buttare questi RAE? Nelle isole e colori. Lo spazzatura? Non è l'isole e colori. Però, alzate di mano, Giulia... Silenzio, vengo io. Dove? Nelle isole e colori. Un applauso, bravissima! Adesso ho bisogno di altri due volontari. alla prossima! Massimo! Passiamo! Poi, sei?